Pechino Express 2024. Barbara Pedrillo presenta suo marito Fabiano Santacroce. Amo. Che c'è? Mi aiuti a scegliere un film? No, manco molto. Un film? Ci metti un'ora a sceglierlo e dopo cinque minuti ti addormenti. Ma che lo scegli a fare? Dopo? Allora ti dico una balzeletta. Cosa significa appioppare? Dare un pioppo a uno che non lo voleva. Ma poi sono vent'anni che rito la stessa battuta. Ma anche come la dici? Ma anche tu ridi, allora almeno da 15. Io non rito più per la battuta, ma perché me la ridici? Beh che dire, sembrate una coppia fantastica insieme.